Non è normale tutto sto caldo, 27 gradi a ottobre, tutti dicono anche al mare è troppo caldo, vanno ancora tutti al mare, così fa troppo caldo, papà sta ancora tagliando i prati, ma quel signore torna già giù, torna già giù quel signore, ma non è quello che dici tu? No, quello che dico io è andato su, abita in Scella, abita non so dove, questo qui è un altro, ma tanta gente passa a piedi, è una strada che non passa tante macchine e a piedi è un bel lavoro, lo sai che vengono su di Arona, mettono la macchina in piazza, poi passeggiano e vanno fino in Scella, è possibile che Arona non c'è da passeggiare. Bisogna mettere vicino a tutti i grembiuli. Oggi? E oggi non facciamo tanto in tempo, settimana prossima, la semana que viene, io devo andare a prepararmi. Sono la regina della casa, quello là c'è scritto. Così è. Così è. Così è, così è, così è. Quando è che andiamo in gita? Ma con sta gamba qui devo... Ma un attimo fa hai detto che non ti faceva male perché viaggi, ti fa male solo di notte, noi non dormiamo. Hai diecimila versioni della stessa cosa, in base a cosa ti conviene dici quella che ti conviene. Compriamo la Ferrari. Non volevo andare a vestirli. Oh 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 oh! Chi la guida fa? Ahahahahhaah! La 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 la! Devo andare a vestirli! Non volevo fare colazione, ho mangiato 400 mila... Tutti li hanno! Tutti! E io cosa faccio adesso? E oggi li ricompro, mica li vorrei mangiare adesso? No! E' il mio risveglio super gustoso! Eh sì, ma fregato! Andiamo, ciao! Quando ti metti a mangiare mangi, poi dici poi faccio la dieta, poi faccio la dieta, poi faccio la dieta! Sempre! Mi è venuta la pancia adesso! E' perché fai la dieta! Voglio ragionarci meglio! Ciao Regina della Casa!